Ok ragazzi, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi, oggi vi spiego come aggiustare il cavo LAN al PC Quindi, se non funziona, va bene, allora vi aiuto io Ho risolto con il mio cavo LAN e adesso va Quindi, questo è il mio canale, se aggiorno la pagina Ecco qua che va la connessione Informazioni, cose così Quindi, che dire, oggi vi spiego come aggiustarlo Ok, allora, innanzitutto andiamo sulla proprietà della connessione Quindi invece di andare qua sopra, andiamo sul pannello di controllo Quindi, pannello di controllo Ok Devo fare una cosa Perfetto, ecco qua Visualizza attività e stato della rete Ok, qui sopra Poi modifiche, impostazioni, scheda Ecco la nostra rete Questa qua è la mia rete Ethernet Ecco qua il cavo LAN attaccato Se adesso metto disabilita Adesso la mia rete è disabilitata Adesso non c'è più Adesso abilito Ok, una volta abilitato Uscirà automaticamente Lo spero Identificazione in corso Tanto per dimostrarvi che cosa dovete fare Ecco qua Ora andiamo su proprietà Poi dove c'è scritto IPv4 Cliccate sopra Proprietà E se voi c'è scritto Non so Tutti questi codici DNS Perché è selezionato su Utilizza i seguenti indirizzi server DNS Quindi mettete Ottieni indirizzo server DNS automaticamente E premete ok Chiudi Chiudo tutto Poi Ho scoperto che C'è un altro metodo Per risolvere questo problema E' quello di aggiornare i driver Della scheda madre Quindi che significa Se avete una scheda di rete integrata Nella vostra scheda madre Allora si può fare Potete aggiornare I driver Però se non avete la scheda Di rete integrata Allora è un problema Di hardware Quindi ragazzi Non so come aiutarvi Quindi Per quelli che Vogliono continuare a seguirmi In questo video Per spiegarvi come Aggiustare il cavo LAN Attraverso La scheda madre Chi ha la scheda di rete integrata Basta che va Sul sit E comincia a cercare Non so Io adesso La B450 Gaming Plus Adesso Vi faccio vedere B450 Gaming Plus Allora Questi sono i driver Quindi Andate su supporto Cliccate driver E selezionate il vostro sistema operativo Non so Windows 7 Windows 7 Windows 10 Dipende Se avete quella Windows 10 A 64 bit Cliccateci sopra E poi Andate su LAN drivers Ecco qua Come potete vedere A me Risulta che c'è Un driver Da scaricare E installare Sulla mia scheda madre Una volta scaricato E installato Ho riavviato il pc Ed è andato Tranquillamente Senza problemi Ok? Bene Poi ho anche la soluzione Per quelli Adesso mi è venuta in mente Questa soluzione Per risolvere Il cavo LAN È quello di Non so Io questo metodo Conosco Di comprare Come si chiama Cavo LAN USB Eccolo qua Questo Se collegate Al pc Con USB E collegate Il cavo LAN Qui Dovrebbe andare Sicuramente Dovrebbe andare E uscire Quindi Quindi ragazzi Spero tanto Di essere stato Chiarissimo Con i dettagli Spero tanto Che Questo video Vi è stato Utilissimo Quindi Se vi è stato Utilissimo Lasciate like Iscrivetevi Al mio canale Tanti tutorial Tech Anche Quelli di Windows 11 Se siete interessati E se potete Permettervelo E detto questo Ragazzi Grazie a tutti Per la visione E noi Ci vediamo Ad un prossimo video Quindi ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti